Ed è quotata a Wall Street la pillola che combatte il sovrappeso ed è brevettata dalla start-up pugliese Gelesis che ha una delle sue sedi a Calimera in provincia di Lecce. Il farmaco arriverà in Europa l'anno prossimo. Il servizio. Da un piccolo paese salentino, Calimera, fino a Wall Street per combattere l'obesità. E' quanto è riuscito a fare Alessandro Sannino, docente di tecnologia dei polimeri e biomateriali dell'Ateneo Leccese con la start-up Gelesis che ha brevettato il medicinale approvato l'anno scorso dall'ente regolatore dei farmaci degli Stati Uniti e che arriverà in Europa nel 2023. La Gelesis è ora quotata la borsa più importante del mondo grazie al lavoro del ricercatore che ha creato il dispositivo medico per contrastare il sovrappeso e l'obesità. La pillola si assume prima dei pasti e contiene un materiale superassorbente a base di derivati della cellulosa che si gonfia con l'acqua che così contribuisce a ridurre l'appetito stimolando una sensazione di sazietà. Gli studi clinici prodotti da Gelesis hanno coinvolto 10 adulti e 6 di loro hanno perso il 10% di peso. La pillola contro le besità è salentina ed è approdata a Wall Street. Quello di Alessandro Sannino era un sogno come tanti. Ci ha creduto, ci ha messo il suo genio, il suo incredibile talento e ci è riuscito, commenta via social la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone sottolineando che la storia della start-up è una storia della nostra terra che rende orgogliosa la Puglia.